Ho messo un po' di video che ho raccontato un po' di me Adesso però dovrei dire come è fatta la Terra e anche l'Universo Ecco, questi video infatti sono con i feedback Perché poi è anche detto, anche sulla mia esistenza sulla Terra Poi cambierò la tipologia del video che racconterò qualcosa di diverso E spero che questo video vi piacerà